Cosa dire, forse in questo momento la risposta è che ho trovato le parole per descrivere l'atmosfera e tutto. Io sono abituato, cerco di isolarmi un po' da tutto, di vivere nel mondo, ma sicché mi devo isolare da tutto. La partita di oggi, secondo me, è stata un'ottima partita fatta dai ragazzi. Ricordiamo che abbiamo iniziato il Tera B, dove hanno lavorato con il tutto contento, cominciando a vedere un po' di top, un po' di valutazioni. È stato molto importante non prendere gol, è stata una squadra di categoria superiore, dove l'anno scorso Santo Baglio ha fatto playoff in eccellenza. Sono contento, sono contento per tutto, per quello che si sta creando, per quello che abbiamo visto. Vedere comunque anche i tifosi lì a fine partita contenti, perché ho visto molti tifosi contenti, è veramente bello. Ed è uno di quegli obiettivi che dobbiamo raggiungere in questa situazione, in questo momento sicuramente. È comunque giocatore a fine anche a cavallo, che nel 2006 secondo me è un grande insieme qualità futura. Sono bianco e una rosa in questo momento dove può mancare qualcosa, sicuramente. E quindi i giocatori che ci sono adesso, dal mio punto di vista, sono praticamente in questo momento tutti tittorali. Tutti tittorali, l'abbiamo visto comunque sia dal primo al secondo tempo, comunque non c'è stato quel caldo. Anche i giovani che sono entrati hanno fatto il duoro, sicuramente dobbiamo fare delle valutazioni sui giovani. e per dove metterli nei ruoli. Qua questa mi chiede lì siamo in particolare. E come vi ho detto, qua ricontrò anche una squadra importante come l'Aqui. Se noi non abbiamo fatto una squadra sicuramente, non abbiamo fatto una squadra sicuramente. Anche il sottetto. Il sottetto. Abbiamo avuto una squadra sicuramente. Molte d'oro. Ricontriamo con sempre che c'è una nostra condizione fisica in questo momento, che non può essere sicuramente una condizione fisica ottimale. Ma infatti il cambio delle punte, il cambio anche di qualche indicatore, perché magari è arrivato un po' dopo, ha bisogno di un po' più di tempo e soprattutto che non vuole mischia. Perché sono giocatori importanti. Perché dal momento della vittoria, che comunque porta molto entusiasmo, la vittoria del campionato con l'Ascar, soprattutto il campionato che abbiamo fatto con l'Ascar, poi dopo quello che è venuto fuori dopo, diciamo che il peso si sente, e soprattutto quello che vogliamo, quello che ci tengo è coinvolgere da gioco. Quello che voglio far vedere è una squadra, una squadra operaria, una squadra che vuole sottare, che vuole sottare per la maglia. Questo è quello il primo obiettivo. Al di là del gioco, di tutto, voglio 24 persone, perché comunque oggi la rosa, perché sto sottolineando, voglio 24 giocatori, dove ogni giocatore deve sfruttare sangue. Proprio ogni partita e ogni momento della gara. E mi sembra che già oggi qualche segnale è necessario. Grazie. Grazie.